allora benvenuti a tutti in questo nuovo video di solito è crisi anche porta i video sulle sfide ma abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici e non ci ha registrato il video infatti io sono con il mio secondo account per registrarlo in realtà l'ho registrato solo che poi alla fine ho sbagliato invece che cliccare una volta due volte share ho cliccato una volta e quindi sarà un casino comunque oggi siamo qui per affrontare due sfide segrete di fortnite di questa nuova patch 14.10 che riguardano il rientro in scena degli ignomi che vogliono promuovere un nuovo slurp che invece è quello che c'è ad esempio a pantano e invece di darti scudo te lo toglie è un po tarocco diciamo via infatti è slurp verde nella prima sfida ci sarà la presentazione proprio di questo slurp che insomma non finirà bene e invece nella seconda è una fase di sponsor di questo slurp che si ammette il bingo oddio io vi in questo nel mio secondo accanto c'è tutta la mappa oscurata si si è detto ovviamente vabbè non si è non si è proprio un account secondo possa per fare il video e questo non l'uso mai dove era qua anche che lo scudo scendo oppure vabbè vabbè poi sono ora andiamo lì direttamente e poi cos'è che vuole dire a noi comunque ci sta una serie in corso che è quella di outlast che domani non uscirà la quarta parte si vabbè di solito ogni pomeriggio esce un video tranne alcune volte che ovviamente non è che però uscirà delle macchine ci siamo sempre però di solito tutti i pomeriggi siamo in la c'è saveria live con outlast e oggi uscirà anche un video di clash royale su canale è già uscito scusate e su twitch comunque potete rivedere nel caso ve le perdiate le live di outlast di replica e se invece le volete vedere che ne so tutte come posso dire insieme sono tutte registrate comunque sul nostro canale trovate la playlist Outlast e Titanfall insomma si sono già fatto un po' di serie io avevo iniziato la serie di GTA San Andreas e ho visto che andava male ho detto perché portare una serie che non ha successo Per per nulla a piuttosto Ho annullato la serie e trovo cerco di trovare un gioco che vada di più Ok Ok perfetto e questa è la prima sfida qui dell'ognomo è fatta ora bisogna andare a E' presente se voi avevate dello slurp ovvero dello scudo quando il barrile esplodeva li toglierà qualche qualche punto scudo Ok abbandoniamo e ora bisogna andare a Accanto all'autorità Sì Oddio sto dicendo dell'agenzia Tra l'altro il punto in cui sono andati ora se non sbaglio era di 8 E va bene l'autorità sapete già tutti dove vanno Allora non c'ho appunti i balletti Vabbè insomma è l'accanto secondario velo lì C'ho fede di Isgra Ah è l'accanto secondario velo lì Eh vabbè lo sa Eh perché abbiamo finito ragazzi scusate però Capito Sono errori che capitano D'altro Vi voglio dire che forse o oggi pomeriggio più avanti oppure stasera o domani Usciranno risidere il sveglio Visto per me perché io fra mezza barra Sono livello 60 e le sblocco Ok Ora aspettiamo che carica perché fortnet è sempre diciamo molto veloce Ok Ok Quindi il punto precedente era qui Come detto D8 E invece il punto di ora L'ho messo io Salutiamo l'autista che c'è Se non lo sapete è una scheda punti Soprattutto te Lorenzo che ti scordi sempre Io me lo scordo sempre Tipo te serio sei abituato Ma in parità lo saluti Cioè ormai per te automatico Io non mi ha salutato Lo ricordo sempre Allora il punto è lì vicino a quella roccia L'altra è di fronte alla roccia Appena il punto preciso in cui abbiamo vingato questa è incredibile Sì Basta atterrarci così Oppure passarci Sì insomma Olè L'evento dell'anno Vi darà 20.000 punti È tipo sponsor per questo nuovo slurp Vabbè io l'ho già fatto E niente Noi vi salutiamo Vi ricordiamo di andare a guardare i Clash Royale Che sta andando molto bene Vi ringraziamo Iscrivetevi al canale Lasciate like Commentate E ci vediamo Al prossimo video E comunque La prossima live di Outlast Sarà A questo punto Di mandata a lunedì Oppure la sera di domenica Quando ritornerò Vabbè Tanto comunque Per queste cose Questi annunci Ci sta Instagram Che vi teniamo sempre aggiornati Detto questo Noi vi salutiamo E ci becchiamo al prossimo video Ciao